buongiorno ragazzi e bentornati sul canale quelli che vedete nelle immagini sono gli artificiali che ho acquistato in occasione degli sconti dell'1111 su aliexpress e come vi avevo promesso a seguire ci sarà il video dove mostrerò nel dettaglio singolarmente ogni artificiale alla fine ci sarebbe dovuta essere anche la prova in mare cosa che non ho potuto fare ma procediamo per gradi buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.